Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Naracqua e benvenuti a questo nuovo video. Parliamo un po' delle nuove novità che abbiamo visto arriveranno nel JAP. Sono stati i leak dei nuovi PG, abbiamo cosa fanno i Super Saiyan 4, abbiamo i leak sulla Dragonstone azzurra e abbiamo delle sicurezze riguardo il Dokkan Butterfield con tanto di data di uscita che è leggermente prima del previsto. Partiamo dalle info più succulente. Super Saiyan 4, ebbene sì, alla fine sono usciti, cosa sono questi due Super Saiyan 4? E stranamente non sono leader globali, sono dei nuovi leader che potremmo chiamare Super Good Leader di una nuova tipologia, ovvero aumento delle statistiche alla loro tipologia e al loro colore del 120% i Ki più 3 e aumento delle statistiche al loro colore ma tipologia inversa del 50% e un Ki. Per spiegare facilmente abbiamo Goku STR che aumenta di 3 Ki e del 120% le stats dei Super STR e abbiamo invece che agli Extreme STR aumenta di 1 il Ki e di 50% le statistiche. Ci possiamo quindi aspettare un totale di almeno 10 di questi Super e Extreme, quindi God Leader 1 per colore e statistiche e poi magari l'arrivo anche del God Leader Globale Extreme e Super prima del, ormai penso certo, Goku Super Saiyan 4, leader globale assoluto dei due anni e mezzo. Ma, scusate, ma sono forti questi PG oltre a essere questo? Allora, naturalmente non distruggono completamente il gioco. Siamo più o meno a quello che è accaduto all'uscita di Veget AGL, quindi i PG che rinnovano il gioco senza totalmente distruggerlo. Cambiano gli equilibri del gioco? Sì, quelli cambiano. Abbiamo quindi due nuovi team che saranno tra i principali, il Super STR e il Super AGL, che però non andranno a distruggere completamente il gioco. Perché questo? Allora, calcolo abbastanza semplice. Escono Goku Super Saiyan 4 e Super Saiyan 4. I team che vengono colpiti dalla loro uscita sono la GL, l'STR e il Super. Nei loro team d'appartenenza, nel caso giocati con doppio di loro, sono dei PG davvero grossi. Goku è il miglior DPS del gioco. Parliamo di praticamente un milione di danno assicurato a SA10. E ve lo dico subito, l'SR potrebbe essere farmabile, perché ci sono strane immagini riguardo all'evento che esce il 7, quindi se lo trovate aspettate usare gli Old Kai, mentre Vegeta rimane il secondo miglior DPS del gioco, ma ragazzi, come vedremo in una rapida analisi, perché l'analisi vero e proprio ci sarà il 3, se non erro, è probabilmente il miglior tank. Allora, questi sono i tre team che vengono influenzati. Come viene influenzato il meta? Allora, in team doppio Goku Super Saiyan 4, l'STR purtroppo, a mio avviso, adesso in un momento di ancora beta testing mentale, senza poter provare il PG, non riesce a prendere le redini del meta. Perché dico questo? Perché, come vedete dai link, come vedete dalla leader, scusate, il PG è molto buono in team Super STR. Purtroppo, negli STR super davvero davvero buoni, non sono tanti, sono Vegeta Super Saiyan 3, e Gogeta. Gli altri PG davvero buoni, dell'STR super, sono PG abbastanza sottotono, ovvero Beerus, Beerus STR, gran PG, ma che purtroppo richiede una botta di culo per andar bene. Abbiamo poi PG del calibro, adesso mi apro proprio anche di Bizeta Space, per poter dire tutti i PG super STR. Abbiamo PG del calibro del nuovo, Trunks GT Tour, che uscirà nella batch di Vegeta, e verrà portato a tour tramite proprio, l'evento di Vegeta Super Saiyan 4, che, a rigore di logica, dai dati che abbiamo, è un ottimo PG, capace di fare davvero tanti, tanti, tanti danni. Abbiamo poi il nuovo Goku Kid, che seppur non reputi un PG essenziale, da un buon boost, più un 10% di diventare grande scimmia, ma poi ci fermiamo, dei veri PG davvero davvero forti, non ce ne sono ancora STR super. Abbiamo qualche nota di spicco, magari è il momento in cui Goku Super Saiyan 3, Gotenks Super Saiyan STR, possono finalmente brillare, dopo un periodo di totale morte. Abbiamo Trunks STR, che comunque non è male come PG, e che può essere il momento che brilli, Gohan Super Saiyan 2 e Vegeta Blue. Però non abbiamo quei mega PG, che potremmo pensare nella GL. Quindi il team STR diventa molto meglio di un eventuale STR doppio Omega, soprattutto per via del più 100% ulteriore di HP e di stats che si becca. Però è ancora da 6 stats, si devono ancora uscire un paio di carte buone, per rendere davvero buono. Di Villa è ingiocabile in questo team, secondo me è molto interessante giocare lo stesso Omega. Perché? Perché comunque tramite Shocking Speed e GT qualche chilo prenderebbe, non farebbe danno, ma l'importante di Omega è quello di diminuire le stats avversarie. Quindi sarà da provare. Sarà da provare. Team che reputo arrivi a livello più o meno dell'extreme, del full extreme, quindi un ottimo secondo terzo posto di team. migliori, però ancora lungi dal poter attaccare il nuovo full super e soprattutto il nuovo full AGL. Full AGL che adesso andiamo immediatamente a vedere. Il full AGL, ragazzi, torna a essere il miglior team del gioco, c'è poco da dire. Abbiamo Vegeta, leader skill esattamente uguale a quella di Goku, che diventa il nuovo leader incontrastato di questo team. Il fatto che ci sia un solo super non tocca più di tanto il team AGL che tanto giocava con due extreme tolti gli androidi, ma Vegeta prende proprio il posto degli androidi. Andiamo a vedere perché dico che prende il loro posto. Diventa quindi un team che secondo me potrebbe essere facilmente rafformato da doppio Vegeta leader, Vegeta AGL, Goku Super Saiyan 3, Goku Kaio, e poi io direi Black Rosé. Perché dico Black Rosé? Perché comunque nonostante si abbassi a un 100% di stats pompate e a un più 2 di chi, ha sempre il più 3 di chi della sua passiva e ha sempre il link Ready at War che hanno tutti. Quindi l'Orepto comunque è uno di quei PG che possa funzionare. Revamp completo del Goku Super Saiyan 3 che adesso diventa un PG che davvero ha un senso utilizzare in team AGL dato il basta assurdo. E comunque ci sono anche altri PG, il Goku Blue Tour, Arale, Vegeta Blue, Vegeta Blue diventa molto buono in questo team. Quindi team che vedo davvero, davvero, davvero buono. Probabilmente potrebbe essere il miglior team del gioco. Perché penso questo? Perché reputo Vegeta superiore a Goku. Perché reputo Vegeta superiore a Goku. Facile ragazzi. Goku Kaio arriva a 950.000 ad attacco base S a 10 in un team doppio Goku. Senza contare il Link Super Saiyan 4 o bust dati da Goku Kid. Ok? Buono. Ma ragazzi, il Vegeta arriva a 40.000 di difesa. 40.000 di difesa! Cioè, per farvi capire quant'è 40.000 di difesa, l'Ilde, STR, che in team Omega è reputato da molti, ma è compreso anche superiore aveva già Super Saiyan 3 arriva a 25.000 di difesa nel momento migliore. Parliamo di una difesa quasi raddoppiata rispetto a quella di l'Ilde e dato che la difesa in questo gioco ha un picco dell'utilità assurda, cioè rimane inutile fino a tipo a, cos'era, fino a 10.000 inizia ad avere un'utilità abbastanza buona ai 20.000 ma immagino ai 40.000 sto robot tankare qualsiasi cosa. Come se non bastasse entrambi i Super Saiyan 4 quali hanno di abilità particolare? Quando subiscono una special hanno una percentuale ancora non scoperta, non fidatevi se leggete in giro 30% o altro, ragazzi, devo uscire il PG perché si vedano queste percentuali, non hanno data mining. come Blue che si è scoperto poco tempo fa che ha il 70% di stun invece del 90% che era da tutti detto me compreso. Quindi sono comunque percentuali non sicuri al 100%. Hanno fatte delle prove. Però ha una buona possibilità che spero non sia come quella di Veget fisico che era grande e poi non era una percentuale del cavolo di annullare la special avversaria e di rispondere con una loro special. Quindi ragazzi potete capire. Piccola parentesi su questo, non fidatevi del video riguardante Vegeta Super Saiyan 4 perché in quel video Vegeta non aveva leader che lo potenziavano, non aveva un cavolo. Quindi è normale che abbia fatto un cavolo di danno. Mentre quello di Goku era tutto mega strapompato nel team perfetto. Quindi il potenziale per cui avete visto magari Vegeta fare pochissimi danni erano quelle. Secondo me il team Agile ha buone possibilità di tornare al team migliore del gioco. Non ne sono ancora sicuro. Cercherò di pullar Vegeta io mi riferirò pullar Vegeta come prima cosa. Se lo trovo riproverò Merge e Zamasu con un team doppio Vegeta vedete vediamo come finisce. Come sapete Merge e Zamasu è la pecora nera del team full Agile. Lo si fa solo nel caso del team Agile completo e anche in quel caso bisogna un attimo scurare. Se con Vegeta la battaglia risulta facile vuol dire che ragazzi finché non escono altri leader di questo tipo o finché il team STR non ottiene i potenziamenti di cui ha bisogno ovvero qualche PG un po' più incisivo capace di far danno o tour o anche solo SSR magari un Sealer cosa che servono a entrambi. che gli unici due Sealer non sono molto giocabili in questi team secondo me potremmo riparlarne. Andiamo a vedere per ultimo il team full Super. Allora il team full Super completo ad oggi sarebbe Vegeta Blue Leader salute Sara Goku Super Saiyan 4 Gia Super Saiyan 4 Vegeta GL Gogeta e Gotenks non reputo più necessario avere un Sealer avete due PG cannula alla special è forte come team un casino ragazzi è fortissimo perché non lo reputo al primo posto perché ragazzi doppio Vegeta da un più 100% doppio Vegeta GL al team Maggiare da un più 140% capiamoci ok il team Super fortissimo buono quanto volete però Goku fa circa la metà dei danni arriva a 500.000 S10 Vegeta arriva a 400 qualcosa 1000 S10 mentre arrivava a 800.000 nel suo team è molto più pacato linkano tra loro con Saiyan Roar che pare essere il link di Super Saiyan 4 provate un più 25% d'attacco non lo nego però non mi pare anche se bisognerà testarlo spero che Feliciano li trovi entrambi in modo che lui avendo già Veget ve lo potrà testare meglio oppure che mettano con la Dragonstone azzurra ottenibile Veget Blue in modo che prendo lui al posto di Buan se riesco a trovare almeno uno dei due non vedo non vedo tutta questa potenza lo reputo attualmente migliore se non al livello del team full extreme abbiamo raggiunto i danni del team full extreme forse leggermente migliore per tutti i counter che può fare il team extreme come se vedete non ha counter però ha più solidità forse nel lancio sempre di special però li reputo o allo stesso livello leggermente superiore di super per adesso soprattutto perché il team extreme può permettersi di andarsi a giocare il leader più 70% con amico quello più 50% il full super attualmente non può permettersi di andare con monotrunks con vegetamico perché trunks fa abbastanza pene e non puoi rinunciare alle orb rosse che daresti a Goku o a Gogeta adesso che sono due personaggi buoni manca un pg però è da pensare è da testare è da testare per questo spero che Feliciano li trovi entrambi mi servirà come testing scamorsella allora sto rando a noi ci sono altri pg utilizzabili però reputo che questo sia il miglior team super quindi il meta cambia ma non cambia in modo da diventare come se fosse uscito il god leader il god leader monopolizzava completamente il meta ora è monopolizzato da 4 team il meta e possiamo il full str il full agl il full super il full extreme che rimane comunque una scelta più che viabile data la potenza immane che ha però sono comunque 4 team diversi di cui solo uno richiede entrambi i pg basta avere uno dei due pg per crearsi un altro dei team sono dei team che rendono il gioco vario questa è la parola di questo anniversario varietà del gioco dopo aver visto il casino successo con Gogeta hanno preferito rendere il gioco ancora vario e aspettare a far uscire il god leader globale che a mio avviso sarà Gogeta ai due anni e mezzo perché dico questo perché adesso abbiamo altri 8 leader che devono uscire 8 o 10 ovvero gli altri 3 super god leader e 5 extreme god leader che devono uscire non ci credo che mi fanno uscire solo i super una volta usciti tutti questi forse uscirà il super e l'extreme god totale quello che fa più 3 ki e 120 ai extreme e poi il god leader globale se esce anche da questo punto spererei più in un Gogeta god leader super globale lo che è un god leader globale buona scusate ma il raffreddore mi sta distruggendo quindi riguardo le info dei super saiyan 4 sono queste le principali davvero davvero roba grossa ora un attimo che taglio per soffiarmi il naso e passiamo alle altre informazioni rieccomi passiamo adesso alle altre due info allora info numero 2 la dragonstone azzurra si è parlato molto di questa dragonstone azzurra che pare darà un god leader anche se non sappiamo quale di preciso si pensa ai 5 principali si spera anche in rosè e veget blu e purtroppo ragazzi ad oggi con le info trappellate dato Sama questa mattina pare sarà solo shoppabile con il pack da 90 stone questo ha causato indignazione generale però ragazzi capite che alla fin fine chi voleva shoppare per i super saiyan 4 shoppa comunque quindi chi non voleva shoppare magari è il momento che fa una da una shoppata soltanto si becca 90 stone da tenere e si becca anche un god leader gratis questa non è una shoppata come quella che poteva essere a random metti 30 euro ma puoi uscirti la merda questa è una shoppata che potrebbe essere o 30 o 40 euro ti danno le storie in cui puoi trovare la merda o il mondo ma al suo tempo ragazzi vi danno anche un god leader fisso e volenti o nolenti god leader anche se non escono i super e i extreme god leader saranno sempre dei saranno sempre dei supporter utilizzatissimi e nei loro colori finchè non esce un altro la loro versione super e extreme saranno giocati voi buon in team int lo continuate a giocare adesso finchè non esce il super o l'extreme int quando uscirà l'extreme int buon lo giocherete comunque forse giocherà anche nel super perché comunque la passiva di buon ci sta a essere giocata lui deve prendere chi per reccarvi la vita ci sta quindi capite che non è davvero come di molti la rovina del gioco volevamo un god leader perché c'è gente che ha scritto volevamo la roba gratis quando vi regalano all'anniversario 400 stone 8 old guy 62 singoli in una batch con il 20% di SSR e un leader primo anno a scelta c'è ancora di più voleva certa gente per farvi capire quindi non capisco il perché va bene se non davano tutto questo e mettevano soltanto il leader gratuito ci stava ma ragazzi 400 stone ragazzi neanche a dire che non ci è andato nulla quest'anniversario non se ne vedono così tanti nei giochi sappiatelo Dokkan all'anniversario paga tanto l'unica cosa che come ho già detto anche sul gruppo si può obiettare è se non mettono sconti che sia il suo pabile solo a 42 euro perché quella è una cazzata perché voi non mettete sconti apposta perché mettete la stone si può la dire che forse è un po' esagerato il prezzo però alla fin fine calcolate che una carta god leader è valutata all'incirca non nella 20 account ma globalmente per le stone che si mettono anche sui 100 150 200 euro in base a quando è uscita perché salvo batch speciali in cui c'è ssr assicurata e un god leader assicurato tipo quella di capodanno non è facilissimo trovarle però quindi c'era anche questa informazione riguardante le super dragon stone ultima info ultima info riguardante il Dokkan Battlefield Dokkan Battlefield che vediamo un attimino vediamo un attimino vediamo un attimino dove è che l'ho scritto l'ho scritto sul gruppo ufficiale Dokkan Battlefield cosa possiamo dire riguardo il Dokkan Battlefield uscirà molto prima di quanto pensavamo pare che la sua data d'uscita è stata anticipata per non so che motivo al 6 di questo mese quindi settimana prossima imminente sono state ufficializzate diciamo le abilità che hanno i vari pg quindi posso dirvi che in base al colore il pg avrà abilità diversi nella prima parte quella la clash royale scusate e abbiamo quindi gli agl che si muoveranno più velocemente verso destra per andare contro gli avversari e una volta arrivati alla barriera se non capite di cosa parlo tranquilli appena esce avrete una una guida completa e probabilmente se vi interessa fatemi sapere qua sotto se vi può interessare un altro dokkan di beta in cui parlo unicamente del dokkan battlefield e lo faccio appena tempo magari anche domani oltre al video degli androidi e arrivati alla barriera fanno più danni alla barriera quindi la spaccano prima i tech in gruppo e per gruppo si intende pg sulla stessa linea insieme quindi che attaccano insieme fanno più danni ma fanno più danni ai nemici che sono vicini a loro quindi in un gruppo di eventualmente 5 nemici fanno più danni al primo ma meno all'ultimo però attaccano tutto il gruppo nemico poi abbiamo gli int che aumentano l'attacco degli altri int in gruppo con loro quindi sono consigliati per fare delle belle orde int e aumentano i danni anch'essi contro la barriera gli str hanno un aumento di tutto il loro attacco e non hanno svantaggio dei tipi quindi li potete buttare contro qualsiasi altro colore senza problemi e infine i fisici che era scontato hanno molti più hp e possono tankare quindi sono da utilizzare magari quando vedete che arriva molti nemici avete un paio di fisici a tankare info più precisa del dokkan battlefield li avremo o nel dokkan debate il suo se volete che lo faccia altrimenti l'avremo il 6 appena esce probabilmente si lo farei il giorno stesso un attimo solo al 4 allora detto questo tutte le info ci sono tanta carne al fuoco ragazzi tanta carne al fuoco ultima info che vi posso dare sono state liccate le barre vita dei boss dal secondo anniversario in poi scordatevi le 5 barre vita c'è roba da 10 barre vita quindi vi immagino battaglie epocali spero non da subito perché comunque i primi due boss spero non siano esagerati cioè Goku e Vegeta devono essere leggermente forti più forti forse anche di Merged ma non devono essere esagerati perché sono l'inizio di un nuovo ciclo come è stato Veget Veget ci stava non era esagerato Broly Broly un pochetto esageratino all'inizio lo era ma poco 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 quindi ragazzi noi ci sentiamo al prossimo video vi invito a andare nei gruppi in descrizione per avere le informazioni prima possibile se volete supportare il canale sempre link in descrizione e noi ci vediamo domani quindi con gli androidi e se volete un Dokkan debate sul Dokkan Battlefield e poi dopo domani direi pomeriggio si con la guida al 50 stun di Goku Super Saiyan 4 più una live speciale in cui pulliamo insieme detto questo alla prossima